Il centro di riabilitazione teri di Cava dei Tirreni è da oltre 30 anni sul territorio. La Cavese ha mostrato cuore e muscoli a parabita, in campo neutro e a porte chiuse, contro il Casarano e il pareggio 1-1 colto dagli Aquilotti vale tanto per loro, visti i risultati che sono successivamente giunti da altri campi. La formazione di Troise, che ha prolungato la propria imbattibilità a 14 gare di campionato, resta al primo posto con 66 punti, mantiene le quattro lunghezze di vantaggio sulla più diretta inseguitrice Nardò e ne conserva sei in più del Brindisi terzo in graduatoria. Ora, prima della fine di questo campionato di Serie D, mancano tre giornate, nove punti a disposizione. E se la Cavese, in queste tre gare con Martina, Brindisi e Nocerina, farà la stessa prestazione offerta ieri contro il Casarano, possibilmente sbagliando un po' meno, potrà giungere al suo obiettivo, che è il ritorno in Serie C. Invece il Casarano, col pareggio di ieri, non è ancora certo dell'ammissione ai play-off, perché c'è l'Altamura dietro. Con le immagini di Vittorio Emanuele vediamo le azioni salienti dell'incontro, arbitrato dal signor Virgilio Di Agrigento. Il Casarano, allenato da Foglia Manzillo, parte da uno schieramento di base 4-4-1-1, mentre la Cavese va sul 4-4-2, come sempre. I salientini verticalizzano molto, vivono sugli spunti di Citro, qui al tiro debole davanti a Colombo, ma i metelliani sono comunque insidiosi e pericolosi. Punizione di Aliperta e opposizione con l'avambraccio di uno dei componenti della barriera, ma reputata dall'arbitro involontaria. Al ventesimo, Strambelli serve Citro, che calcia a lato di pochissimo, poi la Cavese ne ha due di possibilità offensive. Mancata conclusione di Bubassa in area del Casarano e tiro di Banegas alto di poco. Su Parabita, piove a intermittenza e arriva la doccia fredda per la Cavese. Lancio di Parisi per Citro, Magri tocca all'indietro, ma rimette in azione lo stesso Citro, che aggira il portiere e segna l'1-0. Corre il trentesimo. Nella ripresa, i Salentini tentano di tener palla il più lontano possibile dalla propria tre quarti. Ci sono alcune conclusioni dalla distanza che vanno fuori. Però al sessantatresimo, sul ribaltamento di fronte, Banegas fallisce il passaggio e favorisce la presa di Carotenuto, ma per l'episodio proprio precedente viene espulso per proteste il direttore sportivo rosso-blu, Montervino. Ma il punto dell'1-1 arriva al settantaseiesimo. Cuomo tenta il tiro da lontano e sorprende Carotenuto. È il pareggio della Cavese. I bianco-blu provano anche a vincere nel finale, con un tiro di Banegas deviato dal portiere e poi con questa occasione di Gagliardi che finisce fuori dopo un miracolo del portiere del Casarano. Il recupero dura sui sette minuti. Nel prolungamento vengono espulsi due componenti le due panchine, uno per parte, poi si conclude sul pareggio e tutto sommato va bene così per la Cavese.